È partito con il piede giusto già dal ritiro, come ho detto già l'altro giorno non si è fatto ancora niente perché il campionato di Serie B è lunghissimo, è molto complicato, però siamo partiti alla grande, abbiamo battuto una squadra che noi l'abbiamo fatta sembrare molto in difficoltà perché abbiamo vinto con 3-0 offrendo grande gioco, però sarà una squadra e darà fastidio quindi prendiamoci questi tre punti e continuiamo su questa strada. È stato, ripeto, come ho detto anche prima, è stato bello esserci in quell'azione e creare un gol del genere, speriamo ne ripetiamo tanti, la proviamo e riproviamo, il mister cerca sempre di farci giocare palla a terra quindi quando poi riesce è sempre bellissimo. È sempre bello, è bellissimo far segnare, vedere il compagno esultare, poi quando si segna è stupendo però credo sia la stessa emozione perché poi quando soprattutto fai un assist del genere il compagno segna a porta libera è ancora più bello, quindi è stata una bellissima emozione, una bellissima partita, bisogna continuare su questa strada però non si è fatto ancora niente. Segnare e poi andare a fare a pochi passi e andare a sultare lì sotto è stupendo, erano tantissimi, speriamo ne portiamo sempre di più e ci sono vicini come stanno facendo, sono sicuro che andrà tutto alla grande.